Ecco, c'è un po' così. Mi piace? Eccolo! Bellissimo! Allora cosa dici? Roberta, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Roberta, ricevi questo anello, segno dell'amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo. E della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo. E della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo. E della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo. Benvenuti! Grazie! Viva! Viva! Grazie!